La novità importante intanto è che i sindacalisti medici che stanno portando avanti la battaglia per salvare i nuclei di cure primarie incontreranno il 27 il ministro Schillaci a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo, incontro già concordato. E intanto prosegue l'occupazione da parte di sindacati medici e cittadini di un locale presso la direzione generale della ASL in via Saragat, sala occupata dopo il sit-in di qualche giorno fa. Per ora non ci sono state denunce per questa occupazione. Ma lo scontro contro la ASL 1 prosegue perché con un'altra nota diffusa ieri l'azienda ha accusato di strumentalizzare per scopi elettorali. In questa seconda nota si usano assolutamente modi e termini inaccettabili per noi. Veniamo accusati in qualche modo di voler strumentalizzare la campagna elettorale ma noi non lo stiamo facendo. Stiamo facendo queste iniziative adesso perché il primo nucleo chiuderà a maggio e quindi chiaramente bisognava muoversi adesso, oltre ad altre accuse relative ai privilegi di cui godrebbero i medici dei nuclei di cure primarie. Ecco, qui non si parla di privilegi perché si parla di servizi che vengono dati al cittadino e che vengono tolti e che certo vengono finanziati. Questo è il problema, in carenza di questo finanziamento che passa attraverso i singoli compensi dei medici, ma passano attraverso i singoli compensi dei medici perché è l'unica modalità che permette poi di trasferire questi fondi alle cooperative che gestiscono materialmente i nuclei di cure primarie. Intanto lunedì ci sarà un Consiglio Comunale straordinario sulla sanità. Il Consiglio Comunale sarà molto importante perché nel Consiglio Comunale, oltre noi, saranno uditi anche il Presidente della Regione e il Direttore Generale della ASDA. Le risposte che non ci hanno voluto dare finora spero che ce le diano lunedì durante il Consiglio.